Grande Gem Session qui a Casa Campanile. Al piano il grande Claudio Actardi, direttamente da Senigallia. Al basso il grande chitarrista Giacomo Campanile da Roma e Senigallia. Al piano il grande chitarrista Giacomo Campanile da Roma e Senigallia. Al piano il grande chitarrista Giacomo Campanile da Roma e Senigallia. Giacomo Campanile da Roma e Senigallia. Per la vergogna che si vota indietro. Quelli che tentano alla mia vita. Giacomo Campanile da Roma e Senigallia. 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 Vieni non tardare, Signore Vieni, vieni Signore Vieni non tardare 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.